Allora stiamo facendo un test ride di uno scarabèo, mi hanno detto di trovarlo perché Non insieme va bene dai, non manca Ah, ho capito, ok Allora c'è il parabrensa che fa il turboletto sulle pieghe, quindi tocca andare piatti Ok, ok, ho preso, ho preso, vai 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 vai, vai 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 Vai, colpo di reni Vai torniamo indietro, ho capito Allora il freno davanti ci vuole un attimo Eh, le ruote piccole, vai vai vai, vedi tutto adesso, tutto tutto, vai 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 vai, giù in Chiarena Andiamo a prendere quello, andiamo a prendere, andiamo a prendere, vai 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 Ho capito cos'è, è il parabrensa che fa turbolenza Andiamo a prendere, questa la facevo a falla, ma comunque è lì Eh, vediamo questa, vai, vai lo mettiamo su in piega Vai vai, niente Comunque no, no, va bene C'è un limitatore, comunque è una certa velocità Oho Oho Ho capito Vai 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 Come un barcore, dobbiamo guiderlo? Vai vai colpo di reni colpo di reni adesso qua qualcuno mi arriva ma non so io sono non so non so non so non so non so non so no ok 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 fai la piega qua mettiamolo in piega vai 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 arca puttana sbattuta il cazzo di parabrezza e gira gira dai gas oh adesso adesso è ben incontrato no no dopo si è scontrato infatti dopo ho preso l'auto test drive è passato al motore da fighetto adesso infatti guarda anche per mettere il cavalletto è un macello anche per mettere il cavalletto comunque vabbè allora test ride finito avevo detto che sentivo l'avantreno un po' strano invece non è il problema di quello il problema di questo che fa turbolenze sto roba qua mentre vai ti fa così se c'è il vento adesso infatti vabbè comunque l'insieme va bene i freni vanno bene le gomme vanno bene impostazioni di guida e quello è qui ci sbatto come avete visto nel video ogni tanto gli davo le cappocciate luce accese anche di giorno luce accese anche di giorno certo sicurezza prima di tutto la sicurezza casco bene allacciato ok allora salutiamo dai vai test ride test ride finito a posto dai va bene il problema è questo qua che io non sono abituato questo anzi quando sei contro sole fa addirittura non vedi un cacchio quindi 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 ti 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 ti